Buona domenica cari amici, bentrovati. Quest'oggi giunge a compimento il tempo del Natale. È con il battesimo di Gesù che il tempo del Natale trova la sua pienezza. Cominciamo a porci una domanda che ci accompagnerà anche nelle domeniche a venire. Una domanda molto semplice. Perché Gesù è nato? Non è una domanda da poco nella sua semplicità. Il brano di Vangelo che ascolterete partecipando alla liturgia festiva ci porta sulle rive del Giordano dove il battista svolgeva la sua missione appunto di battezzatore. Ma sentiremo nella prima parte del Vangelo di questa domenica che Giovanni deve innanzitutto chiarire la sua identità e quindi la sua missione. Una breve indicazione per capire questo. Dobbiamo sapere che il gruppo di coloro che hanno seguito Giovanni, riconoscendolo come il Messia e quindi non approdando alla fede in Gesù, è un gruppo che è durato parecchio, anche arrivato ad esistere dopo la morte degli Apostoli. E poi è andato naturalmente scemando per il diffondersi del Vangelo e il diffondersi dell'annuncio cristiano. Però Giovanni ci tiene, Giovanni battezzatore ci tiene a dire io non sono il Cristo perché io battezzo con acqua. Qual è la caratteristica di Gesù Cristo? Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. Ecco per capire, cogliere come l'evangelista Luca ci parla del mistero del battesimo di Gesù, dobbiamo stare a questa affermazione di Giovanni. Egli vi battezzerà in spirito santo e fuoco. E questo lo vediamo nella seconda parte del brano di Vangelo che andremo a leggere in questa domenica che chiude il tempo di Natale. C'è un passaggio molto strano. Il battesimo di Gesù non viene descritto, anche se noi celebriamo la domenica del battesimo di Gesù. Si dice che mentre il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. Quindi ci viene detto semplicemente che Gesù è già stato battezzato. Ma che cosa succede con il suo battesimo? Che cosa avviene nell'ora della sua fervida preghiera? I cieli si aprono, discende lo spirito santo. Si realizza quindi la profezia di Giovanni Battista. Gesù è colui che è abitato dallo spirito santo. Gesù è colui che donerà lo spirito santo. Allora perché è nato? È nato per essere abitato dallo spirito santo, è nato per donarci lo spirito santo. Addirittura Luca si sofferma a descrivere la presenza dello spirito in forma corporea, come colomba. Un'immagine che poi noi abbiamo ricollegato sia all'evento del diluvio come al modo di descrivere lo spirito. Ma non c'è solo lo spirito che discende su Gesù, c'è anche il Padre che dichiara chi è Gesù. Tu sei il figlio mio l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Io credo però possiamo dire anche qui il mistero del nostro battesimo molto semplicemente. Il giorno del nostro battesimo Gesù risorto ci ha resi partecipi della sua vittoria sulla morte, ci ha resi partecipi del dono del suo spirito e il Padre guardandoci ha trovato in noi l'immagine di Gesù e a ciascuno di noi ha detto e dice tu sei figlio mio amato, guarda che in te pongo il mio compiacimento. Buona domenica cari amici. 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 Buona domenica cari amici.